Come sapete io cerco sempre opportunità di investimento, di fare soldi, perché in fondo a chi non piace? E proprio ieri, quasi per caso, stavo navigando su internet, ho trovato qualcosa di interessante. È un fondo che negli ultimi vent'anni ha battuto le S&P 500, parecchio, ma non solo, l'ha fatto anche con un rischio molto molto inferiore. Io ovviamente ci ho già investito e sto iniziando anche a vedere i primi risultati, però volevo condividere con voi la cosa e sono sicuro che alla fine rimarrete molto sorpresi. Iniziamo! Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e wow, oggi super fondo di cui vi voglio parlare. Veramente incredibile, non vedevo un fondo del genere da tanto tanto tempo, anzi forse devo essere sincero, non ho mai visto dei risultati simili. Ovviamente ve lo dico subito come sempre ragazzi, non è un consiglio finanziario, non voglio assolutamente che nessuno mi copi. E anzi vi prego anche di guardare il video fino alla fine perché c'è un passaggio molto importante che devo dirvi prima di concludere il discorso. Partiamo però con qualcosa di molto molto semplice. Chi ha creato questo fondo? Il fondo, tra poco vi dico il nome, è stato creato da Benedict Moore nel 2005, quindi quasi 20 anni fa. E da allora si basa sempre sulla stessa idea. Batterie. Lo so siete confusi, adesso mi spiego meglio. Le batterie a litio, quando vengono gettate via, hanno ancora una vita residua, diciamo che potrebbero andare ancora avanti. E ogni anno solo negli Stati Uniti vengono buttate letteralmente circa 3 miliardi di batterie all'anno, se ci pensate è un mercato enorme, soprattutto anche perché da qui al 2030 si stima che questo numero potrebbe salire a 28 miliardi l'anno. Tutte queste batterie, quando vengono gettate, non vengono più utilizzate. Sì, certo, c'è un minimo di riciclo, ma in realtà non fanno altro che produrre un sacco di inquinamento. Moore, vent'anni fa, cos'è che ha pensato? Ha detto, ok, ma se io in qualche modo unissi tutte queste batterie nelle mega batterie e queste batterie potessero stoccare grandi quantità di energia, sarebbe molto vantaggioso. E beh, ce l'ha fatta. Oggi infatti l'azienda di Moore ha tantissimi impianti di svuotamento, di riciclo delle batterie, completamente alimentati a solare, tra l'altro, quindi è come se in qualche modo riuscisse a produrre energia dal nulla. Non solo infatti viene pagato da chiunque per smaltire le batterie, che è un processo molto costoso, ma con quelle batterie riesce pure a farci soldi, con cui si paga sia i costi per lo smaltimento, sia dei grandissimi profitti. C'è un piccolo dettaglio, costruire questi impianti è tremendamente costoso, un solo impianto può arrivare a costare miliardi, ed è qui infatti che Moore ha pensato di raccogliere capitali. Con il suo fondo, Blims, raccoglie capitali, con cui costruisce nuovi impianti e ovviamente dà agli investitori dei rendimenti, e ragazzi parliamo di rendimenti molto molto alti. Tra l'altro, come se non bastasse, essendo questa attività molto sostenibile a livello ambientale, il fondo fin da sempre ha beneficiato di grandissimi incentivi statali. Insomma, vi mostro solamente due cose. In blu avete i rendimenti dell'S&P 500, o meglio, avete l'andamento di 10.000€ investiti nell'S&P 500 e tenuti fino alla fine del 2022. Non male, vero? Sarebbero circa 40.000€. Ora però vediamo il confronto con il fondo Blims. Wow, non stiamo solamente parlando di 60.000€, quindi 20.000€ in più, ma guardate, c'è molta più regolarità nei rendimenti. E ci credo, cioè in fondo il business delle batterie non ha fatto altro che aumentare negli ultimi anni. Non c'è mai stato un singolo momento in cui si è smesso di usarle, anzi se ne usano sempre di più. E quindi Benedict ha continuato a investire e l'ha fatto benissimo. 487% in meno di 20 anni contro il 300% dell'S&P 500. Non è molto di più, ma se consideriamo anche i rischi, cioè non c'è battaglia. Ora, come si investe in questo fondo? Qui non è così semplice perché non è un fondo aperto, non è un ETF che potete andare a comprare tranquillamente sui mercati finanziari quotati. Insomma, è un po' più articolato. Io infatti sono stato fortunato perché in quanto influencer sono riuscito ad accedere a questo fondo, però normalmente è chiuso. Per intenderci ci investono solamente imprenditori, investitori milionari, miliardari. Vi faccio giusto sentire un paio di audio che ho trovato in rete di persone che parlano di Blims. Alcuni di questi sono sicuro che li conoscete. Abbiamo persone del calibro di Elon Musk, Bill Gates, anche Donald Trump. Quindi, sembra impossibile accedere a questo fondo, eppure sono qua a parlarvene. Come mai? Perché sono riuscito, parlando con i gestori, a farvi accedere appunto alla possibilità di entrare. L'unica cosa è che comunque, essendo un fondo che si basa sul meccanismo che vi ho detto prima, non è che uno ci può mettere soldi infiniti. Infatti, voi non potrete metterci più di 50.000 euro inizialmente. Con questi 50.000 euro potete aspettarvi di fare in modo regolare tra il 9 e l'11% annuo. Ovviamente non è garantito, però comunque, visti i rendimenti passati, direi che possiamo tranquillamente aspettarceli. Vi lascio ovviamente il link in descrizione. Non è un consiglio, però, cioè, io fossi in voi ne approfitterei, perché opportunità di questo tipo non capitano sempre. Prima però vi devo dire una cosa molto molto importante. Dovete sapere, infatti, che tutto ciò di cui vi ho parlato finora è finto. Non esiste nessun fondo. Guardate la data d'uscita di questo video. Collegate. Ecco. Però non finisce qui. Tanto per cominciare non esiste nessun Benedict Moore. La persona che avete visto è un'immagine creata con Mid Journey, la versione più avanzata, un'intelligenza artificiale. Lo stesso vale per le immagini di questi stabilimenti. Io ho semplicemente detto al computer, ok, creami immagini con questi elementi. Lo stesso vale per il logo, nulla di quello che vi ho mostrato esiste. Possiamo dire la stessa cosa anche per le voci che avete sentito, ovviamente, di personaggi famosi. Sono voci generate al computer e gli ho inserito un testo e questo è stato il risultato. Quello un po', dai, cioè, penso si capisse, spero. Altra cosa che mi sono inventato completamente, la roba delle batterie. Cioè, ragazzi, lo smaltimento delle batterie è sì un casino, ma non c'è nessuna scorciatoia. Soprattutto non puoi creare un business di questo tipo sopra, nel senso, cioè, fate uno più uno, il ragionamento che ho fatto non stava minimamente in piedi, non c'era un filo logico. Ma adesso, blims, questo fondo blims, esiste? In realtà, non esattamente, bisogna un po' invertire le lettere. Se le invertiamo, diventa BLMIS, che sta esattamente per Bernie Lawrence Madoff Investment Securities. Bernie Madoff, Benedict Moore, ho cercato di tenerle iniziali così come easter egg. Per chi non lo sapesse, Bernie Madoff è stato il più grande, indubbiamente, truffatore della storia ed è riuscito all'apice a truffare per circa 60 miliardi di dollari. Miliardi. Lui aveva sostanzialmente creato un elaborato schema Ponzi in cui aveva creato questo fondo di investimento in cui tutti apparentemente volevano investire e i rendimenti che vi ho mostrato prima sono stati effettivamente i rendimenti di questo fondo. Peccato che erano rendimenti solamente sulla carta. finti. Tant'è che nel 2008, quando tutti sono corsi a disinvestire, lui ha dovuto dire ragazzi, non c'è più niente. E i rendimenti che fingeva di realizzare Bernie Madoff, fateci caso, non erano tremendamente alti. Anzi, diciamo che erano più o meno verosimili, soprattutto considerato gli anni 90, di grande boom. Era però completamente assurda quel equity line che avete visto, cioè zero rischio, nessun calo, mai. È impossibile questa cosa. Il mondo della finanza non è così e quindi quando vi mostrano rendimenti del genere senza mai cali, senza mai rischi, cioè... no. All'epoca Madoff aveva fregato veramente tutti e non la casalinga di Voghera. Saluto agli amici di Voghera come al solito, ma anche grandi banche, grandi istituzioni. Mi piacerebbe pensare che oggi nel 2023, l'1 aprile 2023, siamo tutti un po' più svegli, magari un po' più sgamati su queste cose. In realtà non è così. I ciarlatani, per non dire i truffatori, ci sono sempre, esisteranno sempre nel mondo della finanza persone che fanno affermazioni esagerate, affermazioni parziali, raccontano bugie, perché l'obiettivo è sempre quello di arricchirsi. Voi non ci cascate, siate sempre scettici, pensate sempre con la vostra testa, anche se a dirvelo è un influencer e mi ci metto dentro nella categoria. Voi dovete sempre ragionare con la vostra testa. Perché se qualcuno vi sta dicendo affermazioni così tanto belle, così tanto incredibili, le possibilità sono due. O vi sta fregando, o è l'1 aprile. Alla prossima.